L'anomalia segnalata dal servizio farmacia dell'ospedale Mazzini di Teramo sull'utilizzo spropositato di un dispositivo medico-chirurgico sarà un argomento che verrà approfondito dalla magistratura. Questo perché per l'anticorruzione dell'asli di Teramo non può trattarsi di un errore contabile, tanto meno di una svista organizzativa, che può aver fatto perdere scatole di presidi medico-chirurgici molto costosi, visto che l'ammanco di spesa farmaceutica sembrerebbe aver sfiorato il milione di euro in soli due anni e solo per quella tipologia di presidio. Una verifica su cui l'ufficio anticorruzione dell'azienda sanitaria teramana ha rimesso gli atti e la documentazione raccolta alla procura di Teramo, chiedendo di chiarire la sussistenza di reati specifici, contro i cui il responsabile L'ASL sarebbe da subito pronta a costituirsi parte l'ESA. Danneggia l'immagine della ASL, però adesso bisogna vedere, a seguito dei controlli sono emerse le situazioni, perché è il nostro dovere far sì che la macchina amministrativa viaggia nella correttezza, nella moralità, sono emerse alcune situazioni. Adesso da parte nostra abbiamo fatto quello che dovevamo fare, adesso tutta la vicenda è stata trasmessa alla procura della Repubblica che per quanto di competenza farà i suoi dovuti accertamenti e le dovute conseguenze. Direttore, purtroppo si parla anche di un ammanco importante per l'ASL di Teramo. L'ammanco è importante e lo stiamo verificando e dobbiamo accertare l'esatta entità. Noi da parte nostra abbiamo fatto quello che ci competeva, siamo arrivati al punto che oramai quello che compete l'altra parte la dovrà verificare la procura.